Oggi vi portare in Dardeldor, un'altra parte del centro dell'Inghilterra, e poi vi mostrerò come fare una foto con il OnePlus 5 usando i migliori settori in modo manuale. Per fare questo, bisogna prendere due foto, una durante il giorno e una durante la niente, e poi sbagliarli insieme con il Photoshop app. Prima di tutto, trovo l'occasione giusta e la foto, poi lavorerò in modo manuale, shooting in raw, usando il lowest ISO, e un po' under-exposed. A questo punto, devo solo lasciare la camera in posizione, e aspettare per la niente a prendere. Questa volta, prenderò usando un iso più alto, perché è davvero scuro, e poi prenderò il tempo più lungo e impostare il focus all'infinito. Questo è già un gioco davvero bello, direttamente dalla camera, ma con la combinazione del giorno, potrei farlo vedere ancora meglio, ad aggiungere extra dettagli nelle più scure. e questo è tutto, la magia è finita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.